Musica Al via in Calabria le ricerche del misterioso tesoro del re Visigoto a Larico, ce ne parla Virginia Volpe. Anno 410 d.C., sacco di Roma. I Visigoti guidati da Larico si impadroniscono delle immense ricchezze della città. Pochi mesi dopo il re muore a Cosenza e viene sepolto insieme al tesoro, secondo alcune fonti storiche. Si tratta di un sepolcro mai trovato ricercato fin dal Settecento. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, annuncia sei mesi di lavori preliminari per la ricerca della tomba di Larico. Abbiamo a disposizione gli strumenti della tecnologia moderna che ci offrono la possibilità, con poche risorse, di fare delle attività in superficie che ci dicono dove questo tesoro può essere stato sepolto. È una storia importante, una storia non solo della città di Cosenza, è una storia dell'umanità perché con Larico segna il passaggio della storia antica, quella medievale. La notizia ha avuto eco anche sulla stampa internazionale. Il tesoro di Larico, infatti, è stato oggetto del desiderio per molti. A Cosenza arrivò persino il capo delle SS naziste, Henry Kimmler, inviato da Hitler in persona. Lo storico Giordane, che riprende i 12 volumi scritti sui goti da Cassiodoro, individua la sepoltura del re nell'alveo del fiume Brunsento, in una zona dove la vegetazione rende difficili le ricerche e infittisce il mistero.